Ciao a tutti gli amici di AMF Channel e appassionati del Grande Fratello. Benvenuti al resoconto della quarantesima puntata del Grande Fratello, piena di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. Questa volta, abbiamo visto emergere la protagonista Simona Tagli, che ha svelato la difficile scelta di Alessio tra Anita e Perla. Ma ora, passiamo alle pagelle dei protagonisti di questa vincente serata. Massimiliano Varrese voto 3, con le sue lamentele e il rifiuto delle nomination, Varrese ha iniziato la puntata in modo polemico, aspirando a essere il nuovo capro espiatorio del gioco. Beatrice Luzzi voto 9, con il suo passaggio da concorrente a opinionista, Luzzi ha dimostrato lucidità e taglio netto nei suoi commenti, guadagnandosi un meritato 9. Cesara Buonamici voto 4, non sempre incisiva nei suoi interventi, Buonamici ha mostrato di essere in difficoltà rispetto alla determinazione di Beatrice Luzzi. Alessio voto 7, il tanto atteso personaggio, con strategie che mettono in bilico anche le relazioni più solide. Il suo cuore è per il padre, ma nel gioco sa muoversi con maestria. Mirko e Perla voto 5, la loro storia sembra non avere fine, ma il pubblico comincia a stancarsi del loro tira e molla, che sembra più una strategia che una vera relazione. Alfonso Signorini voto 8, con la sua capacità di leggere tra le righe, Signorini si conferma come la voce del popolo, con commenti pungenti e rilevanti che smascherano i concorrenti. E così si conclude la nostra analisi della puntata di ieri del Grande Fratello. Che ne pensate voi? Vi invitiamo a condividere i vostri pensieri nei commenti. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie